Allora cercherò di essere un po' più rapido di 15 minuti visto che siamo un pochino a ritardo. Io sono il responsabile sanitario di un RSA del milanese e mi occupo principalmente del nucleo Alzheimer della struttura. Come penso molti di noi sappiamo l'RSA vive basandosi sulle terapie antipsicotiche, purtroppo, soprattutto per la gestione di quei disturbi comportamentali che sono alla base poi soprattutto per quanto riguarda l'igiene, per quanto riguarda l'alimentazione, per il ciclo sonno-veglia, per i deliri, per tantissime problematicità. Quindi il problema qual è? Che la terapia spesso poi dà degli eventi avversi molto importanti. Parliamo di accumulo, anche semplicemente le cadute a terra. Nel nucleo protetto le cadute a terra sono all'ordine della settimana. E in ospiti anziani purtroppo la caduta vuol dire spesso anche fratture e quindi perdita delle competenze. Quando sono arrivato nel nucleo protetto della struttura avevamo appunto 40 ospiti e questa era più o meno la terapia giornaliera. Io vi faccio notare 4 kg di coetapina più o meno al giorno, 560 gocce di trittico e così via. Insomma, terapia enorme. Ovviamente il problema dove stava? Che in realtà non era sufficiente. Perché la terapia che noi avevamo in quel momento lì funzionava per quell'ora appena data e tra l'altro non andava a dare un beneficio, andava a dare una sorta di sedazione all'ospite che sicuramente non picchiava l'operatore, però che sostanzialmente non provocava un beneficio dal punto di vista clinico. Per fortuna abbiamo iniziato a introdurre delle terapie. L'adolterapia immagino che più o meno la conosciate tutti, però giusto per dire velocemente che cos'è, è una terapia occupazionale, una terapia educativa in cui l'educatore arriva con questa bambola, non dichiarandola come un giocattolo, va davanti all'ospite e le dice guarda che cos'ho qua per te, te ne vuoi occupare tu, l'ospite, la paziente, che ha una demenza un po' più grave, va a luttare la bambola come se fosse una bambina. A quel punto inizia a occuparsene. Durante il periodo dell'attività si vede subito che l'ospite è molto più felice, tendenzialmente riacquista l'affettività. Io ho scelto queste foto perché quasi tutte queste ospite sono ospite molto aggressive nella norma. L'ospite in carrozzina, questa qui, mi ha tirato un calcio e un pugno e io sono il medico, quindi immaginiamo che cosa faceva anche al parente, che cosa faceva anche a se stessa. In realtà grazie all'uso della bambola abbiamo notato che durante quell'ora l'ospite era molto tranquillo, era molto affettuoso. Quindi l'idea è stata come facciamo ad ampliare questo tipo di trattamento anche senza l'educatrice, perché l'educatrice ovviamente ha un totriore e quelle ore non possono essere dedicate solo al singolo ospite. Quindi in accordo con un negozio di giocattoli ci siamo fatti portare circa una quarantina di pupazzi, bambole, che ovviamente non erano perfettamente idonee per l'adolterapy, ma che venivano utilizzate dagli operatori nel momento di quando non c'era l'educatrice. A questo punto, a parte la difficoltà poi nel toglierle all'ospite che la imboccavano, oppure alcuni ospiti si trovavano ad avere 10-20 bambole dentro l'armadio nascoste, fondamentalmente è stato un ottimo beneficio. E quindi abbiamo iniziato a ridurre la terapia durante le ore diurne. A questo punto, sempre con la stessa idea, l'intenzione era quella di andare a creare sempre più attività in cui l'educatrice fosse solo una moderatrice dell'attività e non dovesse essere costantemente lì. Quindi abbiamo trovato il progetto Bancarella. Il progetto Bancarella è un progetto, anche questo abbastanza famoso, nell'RSA in cui l'educatrice arriva con una bancarella con stoffe, pupazzi, giocattoli e li lascia lì. Gli ospiti con il wandering e con l'affacendamento tendono principalmente ad avvicinarsi e iniziare le donne soprattutto a mettere a posto, un po' come ricordo della loro vita da casalinghe, gli uomini a giocare. Quindi a questo punto anche qui un sacco di ospiti erano più interessati a mettere a posto, a riordinare, a giocare con quegli oggetti, piuttosto che a picchiarsi tra di loro o a picchiare gli operatori. Ultimo progetto, questo un po' più difficile, era il Baure dei Ricordi. Questo l'ho trovato io da un'RSA americana, è una roba un po' più nuova e c'è bisogno della famiglia. La famiglia ci porta degli oggetti un po' cari agli ospiti, ad esempio sicuramente delle foto, alcuni hanno portato degli orologi da taschino, una parente ha portato il cappello da bersagliere del papà. A quel punto l'educatrice in un rapporto uno a uno si mette davanti all'ospite tutti gli oggetti e aspetta di vedere cosa succede. L'ospite alcuni li butta per terra, non ricordandosene, alcuni la fanno piangere, quindi sono da escludere, e alcuni invece provocano una sorta di rassicurazione. Quelli che sono ancora in grado di creare un discorso raccontano che cos'è quell'oggetto, altri semplicemente provocano, hanno un sensore di relax, un sensore quasi di una rievocazione. Questa attività qua è stata introdotta sia come attività vera e propria dall'educatore, che serviva poi come rievocazione, quindi come stimolazione cognitiva, ma serviva anche agli operatori nel momento in cui l'ospite diventava aggressiva e l'operatore forniva dell'oggetto l'ospite, a quel punto l'ospite si rasserenava. Questa è la terapia un anno dopo, per semplicità ho messo il paragone, così si va a evidenziare la differenza, e sicuramente come dosaggi siamo ancora molto molto in alto, però generalmente siamo quasi tutto alla metà. Ho cerchiato la parte più del mattino e del pomeriggio, perché sono le ore in cui gli operatori danno gli oggetti, danno le bambole, e in effetti potete vedere che è effettivamente quasi la metà. Questo è sicuramente un po' inficiato anche dal fatto che è passato un anno, quindi l'ospite anziano un anno dopo può essere anche più rallentato, e ovviamente è un po' più semplice da gestire dal punto di vista della parte comportamentale, però comunque è stato sicuramente un ottimo risultato. L'idea a questo punto è stata quella di andare a creare il progetto proprio educativo per andare a stimolare oltre alla parte dell'affettività, anche la parte cognitiva. Quindi a questo punto abbiamo diviso gli ospiti del nucleo protetto in tre gruppi, in realtà poi abbiamo usato anche altre scale, io qua ho insegnato la CDR un po' per semplificare, abbiamo usato l'Adenbrook che è una scala un po' più complessa, però per essere chiari abbiamo diviso gli ospiti in tre gruppi, appunto il primo gruppo è quello con una demenza più lieve, in cui veniva fatto il brain air training due volte alla settimana, più la stanza snosel, anche adesso vi spiego che cosa sono tutte e due. La CDR3, quindi un moderato grave, il baule dei ricordi, il progetto Bancarella, la CDR4, la Dolterapi e il progetto Bancarella associato alla stanza snoselen. Per essere chiari il progetto brain air, cioè il brain air training cognitivo, è un progetto abbastanza vecchio in realtà nella classe degli educatori, per me era nuovissimo, io non sapevo nemmeno che esistesse, ed è un progetto fatto col tablet. Quindi sì, ovviamente con l'educatore, l'ospite viene messo davanti a questo tablet, con questi giochi, in cui i giochi prevedono il riconoscimento di alcune figure, dei colori, metterli in ordine di grandezza, e poi può essere anche effettuato in piccoli gruppi, in base ovviamente alle possibilità degli ospiti. La stanza snoselen invece è una stanza che viene messa all'interno del nucleo protetto, abbiamo dovuto smantellare la palestra per crearla, ed è una stanza multisensoriale, in cui con luci soffuse, questo qua è l'infusore, e la musica è delle luci un po' colorate, e si va a creare una sorta di stimolazione, quindi c'è una stimolazione tattile con le fibre ottiche, una stimolazione visiva, una stimolazione uditiva, e invece l'infusore abbiamo scelto come odori, gli odori, quindi la menta, la salvia, il basilico, quindi quegli odori che potevano andare a rievocare, soprattutto di nuovo nelle donne, anche perché la maggior parte dei miei ospiti sono donne, la rievocazione un po' del senso della cucina. Effettivamente questo serviva, poco come stimolazione della cognitività, ma più che altro per il relax, quindi usciti da quella stanza, gli ospiti, anche quelli più aggressivi, erano molto rilassati, e tendenzialmente facevano tutte le attività. Per concludere, ovviamente, vista l'efficacia di tutto questo, l'idea è stata quella poi di, cioè l'idea sarà, c'è già in atto, di creare sempre nuove attività, vabbè la prima in realtà l'ho provata solo io, che è quella del visualizzatore 3D, praticamente è un visualizzatore che fa vedere tutte le città, quindi si sceglieranno delle città degli ospiti per andare a fargli ricordare un po' i posti della loro infanzia. Non sappiamo ancora come utilizzarlo, perché abbiamo paura del disorientamento, però ci vogliamo provare. Quello che già abbiamo iniziato è l'orto nel giardino Alzheimer, che in realtà è un terrazzo, però l'abbiamo adibito a giardino, e il laboratorio di cucina, anche se l'ASL storce il naso per un discorso di HCCP. Però funziona. Grazie mille, sono stato velocissimo. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille.